Un po' sorpresa, allora vince un minor maschile Steve Rogers Capitano America Il grande Dopo questo per favore il numero di come stai? Capitano E ecco che mi viene consegnato a due action figures, prego fatti fare una foto Scudo e action figures Vai Steve Rogers, tutte e due proprie Mi metti ancora, mettete tra i due cintori, fammi stringere la mano prima Stringere la mano alla Capitana Nero Ma già, oh è che c'è, ma si, ma si E direi che l'ultimo lo facciamo dire al momento e ci proviamo O no, a te, you, you please stand here Reader, last one Enchia Il premio videogioco, ce lo dice sempre il nostro compagno di sventure, annuncia E allora, scusami se prendo, ma tu sei inglese e non capisci, o americano Il premio del videogame show di stasera Io ne dico a lui, ma un po' come lui diceva, vai via, tu puzzi troppo, sei brutto, lava di così come io Che è un Nintendo, cos'è? Che è un Nintendo 3DS, stasera Matteo, attenzione, venendo qua mi ha detto io non ce la faccio più sono due edizioni due eventi che mi chiedete di presentare quando il premio c'è un 3DS perché come vorrete vincere se lo vede sempre passare davanti che mi diceva tutto questo, quindi a questo video direi che lo vincite per soffrire il premio del video game show quando vogliamo forza non mi sentiamo non mi sentiamo la principessa bitch buon'è il premio il premio il premio ti può giornarci a super mare vedi fatti vedere nel pubblico fatti assaggiare la prima il fungo il fungo scappa finché se il tempo ha visto il fungo la principessa bitch un altro applauso vieni qua sul palco tutti quanti fatti una bella foto al centro del palco vediamo pure Goku qua Goku ormai mi ascolta Goku tieni qua io posso dare un premio presentatorio un po' prego